Stiamo per entrare nella maison di due grandi stilisti, Dolcetto e Banana. Pazza! Questa collezione di gioielli non piace a nessuno! Abbiamo i depositi pieni! E non solo! Ehi, camomillati! Ci penso io, chiamo il mio amico Giallo. Pronto? Giallo! Tu lo prendi, vero? Dolcetto, di cosa stiamo parlando? Ho un affare grosso e prezioso tra le mani, posso venire? Tanto lo so che tu sei sempre aperto! Chiariamo! I miei negozi sono sempre aperti, anche in agosto, con orario continuato. E acquistiamo e permutiamo ore argento. Giallo! E io di che sto parlando? Di Ciccine Seminde? Scusa! Mottola, via Europa 5.